Cari amici, buon pomeriggio. Sono Guerrino Petillo, consigliere della Camera Tributaria di Roma e docente all'Università Internazionale di Roma e organizzato per la Commissione di Diritto Tributario, che vede coordinatore l'amico Paolo Voltaggio, questo convegno sulla direttiva europea Case Green, la 2010-31 UE, per iniziare un percorso, anzi direi per continuare il percorso che abbiamo intrapreso in quel famoso luglio 2020, quando iniziamo a parlare proprio in quest'Avola di Superbonus. In quella sede avemmo una grandissima intuizione, quella di parlare di Superbonus non in modo autocelebrativo da avvocati, ma di mettere a disposizione le nostre strutture, questa bellissima Aula, le nostre commissioni, per poter creare un rapporto interdisciplinare con gli altri ordini professionali interessati dalla norma, dalla 34-2020 e soprattutto in modo particolare richiamati dagli articoli 119 e 121, cioè quelle figure professionali che si individuano negli architetti, negli ingegneri, nei geometri e nei commercialisti. Quindi gli unici che effettivamente eravamo esclusi da questo tipo di normativa eravamo noi, ma capivamo già dell'esigenza di partecipare a questo tipo di avventura iniziata appunto nel 2020 e conclusasi con le determinazioni del Ministro Giorgetti che in buona sostanza dopo 36 variazioni normative ha chiuso i rubinetti del Superbonus, ma che comunque non mettono sotto il tappeto il problema perché l'Europa, come tutti sapete, ci ha chiesto di adeguare i nostri edifici a quella che è la famosa direttiva che abbiamo appena richiamato. Quindi un percorso che andrà avanti negli anni, in modo proficuo, ma una continuazione di quel progetto che tante soddisfazioni ci ha dato. Dobbiamo dire che dal 2020 ci siamo poi incontrati presso le prestigiose sedi dell'Ordine degli Ingegneri, Piazza della Repubblica, in Piazza Manfredo Fanti, dall'Ordine alla Casa dell'Architettura, la bellissima Casa dell'Architettura presso l'Ordine degli Architetti, dai commercialisti, ma ancora più importanti sotto questo profilo e dagli amministratori di condominio perché con loro abbiamo avuto un'interlocuzione direi quotidiana e si è avviato un percorso convenistico che è diventato di livello nazionale. Cercherò di parlare il meno possibile perché il tempo è breve e io chiacchierò molto, quindi eliminerò anche il mio intervento previsto proprio perché il Presidente Paolo Onesta che vi saluta e il coordinatore tesoriere del nostro ordine Paolo Voltaggio mi hanno appunto delegato di condurre questa sessione. Adesso ringrazio quindi sia l'Ordine degli Avvocati che ci ospita, sia l'Ordine degli Architetti e sia l'Ordine degli Ingegneri e l'UNAI che è appunto rappresentata dal Presidente Calabrese che è qui vicino a me. Direi che partirei già dagli indirizzi di saluto e per primo chiamerei all'intervento l'ingegnere Massimo Cerri che è il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma. A te la parola Massimo, grazie. Grazie, grazie infinite di questa opportunità. Un ringraziamento al Presidente dell'Ordine degli Avvocati, all'Ordine degli Architetti rappresentato dal Tesoreria Alcaro e all'UNAI, a tutti i regolatori che ci accompagneranno e un ringraziamento particolare da te Rino per questa intuizione che hai avuto di avvicinare le tante realtà professionali che si trovano poi in campo a dover gestire tante situazioni. Oggi torniamo a parlare del tema in qualche modo del super bonus, dei bonus edilizi, seppur collegato a un aspetto di novità che è quello della Direttiva Case Green, quindi un tema di grande attualità e che vede le professioni insieme. Direttiva Case Green che nasce sulla spinta delle cosiddette riforme Fit for 55, quindi sappiamo che entro il 2050 per impegno preso in Europa vogliamo raggiungere la parità energetica, quindi la decarbonizzazione legata al patrimonio edilizio. Obiettivo che prevede degli step intermedi. Dopo l'emanazione del maggio scorso della Direttiva sappiamo che c'è un impegno per cui entro fine anno in qualche modo ogni Governo dovrà esprimere con quali modalità intende raggiungere gli obiettivi. Gli obiettivi che tecnicamente prevedono a dicembre del 2030 la riduzione dei consumi del 16% e al 2035 del 20-22% prendendo a base i consumi del 2020. Ora in considerazione del fatto che il SAT ci dice che abbiamo un parco immobiliare di circa 12 milioni di edifici e che l'intervento è indirizzato circa al 45% di questi, guardo il Presidente Unai. Sappiamo che questo obiettivo vuole in qualche modo essere raggiunto considerando un intervento su 5 milioni di edifici che per quanto minimale potrà essere in termini di riduzione energetica richiede comunque degli ingenti investimenti. Ecco che allora diventa di grande attualità il tema che viene posto oggi, quello dei bonus fiscali rispetto al tema Case Green. Dicevamo 31 dicembre 2025 dobbiamo dare questa proposta di piano nazionale sulle modalità con cui intendiamo raggiungere questi obiettivi. Stesso anno nel cui morirà definitivamente lo strascico del super bonus che oggi abbiamo e anno nel quale già il 2024 cominciamo a vedere per terminare anche delle azioni che non sono super bonus ma sono bonus ormai standardizzati all'interno del nostro panorama nazionale. Quindi penso ai bonus edilizie, bonus per l'energia, Iago Bonus, penso ai bonus legati alle strutture, il sisma bonus. Il punto quale sarà e dunque quale è la grande sfida? Come arriveremo a presentare il piano italiano al 2025 considerando gli ingenti investimenti, considerando le indicazioni della direttiva Case Green che mette proprio questo tra i punti centrali dei Paesi membri di individuare quali saranno le risorse economiche attraverso cui potranno essere raggiunti gli obiettivi e considerando anche la volontà europea riportata in direttiva di favorire in qualche modo i meno abbienti affinché comunque spesso poi tra l'altro queste famiglie vivono negli edifici e negli immobili che hanno maggior necessità di intervento ragionevolmente vista comunque la vetustà del parco immobiliare in particolar modo quello italiano e dunque come poter raggiungere questi obiettivi. Io credo quindi siamo di fronte a una grande opportunità oltre a una grande sfida che è quello proprio di ripensare il tema dei bonus alla luce degli obiettivi di carattere tecnico posti dalla direttiva e chiudo semplicemente solleticando un punto. Abbiamo visto delle fortissime battute da verso nel momento in cui la gestione del credito derivante dall'applicazione dei bonus fiscali è terminata. Sappiamo che è volontà del nostro governo e ci è stato detto che le ragioni sono strettamente di natura di finanza diciamo sì di Stato sulla impossibilità di poter tornare a questa condizione ma lo dico da tecnico e rappresentanza dei 23.000 ingegneri dell'ordine di Roma molti dei quali hanno investito all'epoca su questo tema. Lo dico dopo il confronto continuo che abbiamo non soltanto con le associazioni legate all'amministrazione dei beni ma anche con le realtà imprenditoriali che operano al settore edilizio la mancata opportunità di poter accedere alla circolazione del credito ha rappresentato e a mio avviso rappresenterà per il futuro una grandissima criticità per poter ottenere gli obiettivi che abbiamo condiviso in Europa. Grazie Rino, grazie a tutti voi. Grazie dell'ottimo intervento Massimo, tanto noi siamo sempre insieme perché tutti sappiamo che sei anche un grande esperto di sicurezza del lavoro e allora noi per non fare brutta figura con oltre ai vari docenti universitari che abbiamo invitato qui il 23 di questo mese sarai tu a relazionare perché poi per amicizia io non sapevo che tu eri esperto proprio di sicurezza del lavoro quindi ci farai far bella figura insieme ai docenti universitari il professor Borgogno, avremo della Sapienza, avremo Fabio Massimo Gallo già presidente della Corte d'Appello di Roma che è uno dei più grandi esperti nazionali in materia di diritto del lavoro insomma un parterre Ezio Bonanni che è il presidente di Ona che è l'organismo che si occupa dei problemi dell'amianto quindi lì ci divertiremo e lì sarei proprio un relatore, non farei gli indirizzi di saluto, andrei giù pesante. Grazie Massimo e presento un altro amico con il quale abbiamo fatto un percorso direi parlamentare nel senso che lui è quello che è riuscito a fare avere disabili il bonus 75% tampinando chi di dovere il governo ottenendolo poi ha resistito per un anno poco più ovvero lo sconto in fattura del 75% per gli interventi diciamo in favore di chi è portatore di disabilità e questo però ne parlerà lui e vi passo passo la parola al dottor Stefano Maiandi presidente dell'associazione Fiaba. Grazie Rilo, grazie a tutti voi, grazie all'ordine degli avvocati per l'invito fattoci e mi volevo un attimo riallacciare a quello che ha detto il presidente dell'ordine degli ingegneri. Le misure che sono state messe in campo dal governo come titoli edilizi quindi attività edilizie per poter migliorare il sistema Italia senza un supporto chiaro e programmato senza una validazione del budget certo sono soltanto una iettura perché non hanno prodotto l'effetto desiderato hanno soltanto creato ulteriore confusione e ulteriore danno, parlo dal mio mondo, dalla mia categoria, perché pensare che le persone che hanno una disabilità, che è sbagliato pensare alle persone con disabilità, è giusto pensare alle persone che si trovano in condizioni dove non hanno la possibilità di poter uscire dalle proprie abitazioni perché non ci sono gli ascensori, perché magari quegli ascensori fanno parte di un complesso immobiliare dove le manutenzioni vengono fatte non con grande attenzione e quindi ci troviamo, ecco l'altro giorno leggo da un giornale, delle figure, delle otto persone all'interno di un condominio che sono agli arresti domiciliari da un mese. Allora, il principio di realizzare bonus, concedere il bonus e predisporlo e metterlo in condizione tale di poter avere l'accessione del credito, lo sconto in fattura, ha una valenza importante per quelle figure meno abbienti. Quindi, e qui mi riallaccio anche alla prossima sfida che la nostra nazione dovrà affrontare è la direttiva Casa Green. Anche qui, se vogliamo creare discussioni, qui voi siete avvocati, quindi dovete mediare il processo di discussione tra il cittadino, il condomine e le ditte. Se vogliamo garantire ai tecnici la certezza del giusto guadagno e alle imprese di ciò che fanno, possiamo parlare per settimane di Casa Green, possiamo parlare per mesi di nuove misure a miglioramento dell'attività edilizia. Ma se non c'è certezza del diritto e non c'è certezza del credito, stiamo parlando del nulla. Ecco, quello che si è manifestato nel corso di questi ultimi tre anni, partendo dal bonus 110. Il DL34 è stato il nulla all'interno della nostra nazione. E' stato qualcosa che ha dato una deflagrazione al nostro fare, alle nostre imprese edili, perché ha creato soltanto false illusioni. Abbiamo costruito un mostro sull'argilla. E non so, Massimo, se è possibile creare un mostro così grande soltanto sull'argilla, se non facciamo una fondazione molto importante. Quindi è su questo che io rifletto quotidianamente. Arrivare a costruire un Casa Green quando noi abbiamo quasi 9 milioni, se non più di 9 milioni, di edifici in Italia, vetusti, che non hanno gli ascensori. Qui accanto c'è uno dei massimi rappresentanti del mondo del verticale. Allora, immaginiamo di ricostruire i nostri fabbricati partendo da una corretta mobilità e immaginandoli efficaci ed efficienti sotto il profilo energetico. Perché le persone, alla fin fine, se non possono essere libere, quel piano di miglioramento energetico non serve a nessuno. Ringrazio nuovamente tutti voi per la disponibilità, ma il mio amico Grino per l'invito Fatto. Sempre un piacere averti con noi. Credo che faremo insieme almeno 10-15 convegni l'anno, quindi siamo abituati a stare insieme e a vivere queste esperienze insieme contaminandoci, cioè mischiando le nostre competenze. Grazie di nuovo Stefano. E adesso per l'indirizzo di saluto passo la parola ad un altro amico con cui abbiamo tanta convegnistica insieme presso l'Ordine degli Architetti, l'architetto Antonio Marco Alcaro, tesoriere dell'Ordine degli Architetti della provincia di Roma ed autore di, forse fra le più belle slide che io abbia mai visto, quando eravamo nella crisi totale di fonti normativi che si succedevano, lui venne qui in una sala tutta gremita con 400 collegati e ci illustrò nel dettaglio tutti i vari passaggi normativi. Lì ci rendemmo veramente conto di dove stava andando il super bonus e di questo ti ringraziamo. Oggi un indirizzo di saluto è più leggero, lì c'è anch'io dato mezz'ora. A te la parola Marco, grazie. Grazie a tutti, porto i saluti del Presidente del Consiglio dell'Ordine di Roma e ringrazio l'Ordine dell'Avvocato di Roma e l'Avvocato Petillo per questo invito. Noi continuiamo ormai da qualche anno a portare avanti insieme una serie di iniziative sul tema, in questo caso il super bonus, ma su temi che riguardano tutti noi. Prima di arrivare a dire due parole sulla direttiva Casa Green, è doveroso comunque segnalare che purtroppo noi abbiamo vissuto in questi anni tutto ciò che è avvenuto per il super bonus, che ancora purtroppo c'è una situazione non risolta per migliaia di cittadini, imprenditori e professionisti che si trovano in situazioni molto gravi a seguito di tutte le modifiche normative, di tutto ciò che ha causato il super bonus. E purtroppo il Governo, per mancanza di soldi sicuramente, ma per tutta una serie di problemi, ancora non è riuscito a dare delle risposte. È vero che tutto ciò che è avvenuto è avvenuto per iniziative svolte da precedenti governi, però è anche vero che chi si prende la responsabilità di guidare un Paese, una Nazione, si deve purtroppo anche assumere oneri e onori e quindi anche di sistemare problemi che sono stati causati da altri, come quando voi avvocati mi insegnate se io mi compro una casa, questa casa è abusiva, io divento automaticamente responsabile di quell'abuso anche se non l'ho commesso io. Quindi comunque una soluzione io credo che vada trovata a questi cittadini e quindi faccio un appello anch'io qui per poter trovare insieme una soluzione. Per la direttiva Green, allora lì bisogna partire purtroppo da due dati. Uno, problema di mancanza di disponibilità di fondi da parte della Nazione Italia, perché poi le direttive europee devono essere applicate in vari Paesi con grandi differenze tra Paese e Paese. Noi siamo in una situazione purtroppo non facile nel nostro Paese e quindi dobbiamo capire come indirizzare quelle poche risorse che abbiamo e come poter ampliare queste risorse per poter andare a ottenere dei risultati utili alla collettività. E non è facile. Bisogna capire innanzitutto nei contenuti come si vuole agire. Noi da anni facciamo appelli alla politica dicendo che quando dovete legiferare su argomenti che ci riguardano, cercate di coinvolgere gli ordini professionali, professionisti, le associazioni di categoria, perché noi possiamo dare un valido contributo come avremmo potuto dare sul super bonus se fossimo stati contattati prima. Purtroppo però questi appelli molte volte rimangono nel vuoto e quindi anche adesso non abbiamo avuto grandi risposte per poter cercare di dare un contributo importante su questi aspetti. C'è un altro problema fondamentale quindi oltre alla mancanza di fondi il problema della situazione urbanistica dei milioni di immobili che abbiamo in Italia che sicuramente non sarà risolta con il decreto adesso diventata legge Salvini e si parla da anni del nuovo testo unico ma non se ne viene a capo quindi c'è una situazione complessa del patrimonio italiano e quindi prima di parlare di bonus edilizi dobbiamo capire perché naturalmente noi non possiamo, anche se poi sul super bonus si sono fatti un po' di pasticci, non possiamo dare dei bonus edilizi a un fabbricato che non è apposto dal punto di vista urbanistico però sappiamo la complessità che c'è in Italia su questo bisogna trovare delle soluzioni reali che portino a una sistemazione del patrimonio esistente per poi cercare di evitare di fare in futuro gli errori che sono stati fatti in passato. Dopodiché bisogna capire, quindi una volta risolte e affrontate queste due problematiche principali, capire come poter intervenire e soprattutto all'inizio dove andare a intervenire perché naturalmente proprio per mancanza di disponibilità economica non possiamo pensare adesso ad intervenire a grande scala dobbiamo cercare quindi di cominciare innanzitutto a fare un programma di prospettive più lunghe perché quindi bisognerà dialogare con l'Europa e capire che i tempi si devono per forza allungare non possono essere così stretti come sono stati immaginati del resto sulle automobili credo che salteranno tutti i piani che sono stati fatti e quindi capiranno che quello che hanno ipotizzato sulle automobili non è fattibile e quindi andrà trovata una soluzione diversa. Anche qui sulle case bisognerà fare una prospettiva più lunga quindi cominciare dalle cose più urgenti, applicare il principio del buonsenso quindi io comincio con i soldi che ho adesso con le cose più urgenti che sono più problematiche poi piano piano vado a intervenire su quelle mediamente problematiche e poi su quelle minormente problematiche quindi fare un piano di questo tipo. Capire quali sono gli interventi realmente utili perché anche lì si può fare il paragone anche lì con le automobili ma insomma ci sono interventi che vengono spacciati per green ma che di green non hanno solamente nulla leggevo l'altro giorno un articolo che mi ha colpito dove mi ricordo adesso in quale nazione stavano seppellendo centinaia e centinaia di pale eoliche perché praticamente una volta che sono finiti gli incentivi per le pale eoliche non sono più convenienti al punto di economia e quindi le hanno dismesse e non sanno dove mettere queste pale eoliche le stanno tutte sotterrando sotto terra quindi è evidente che se si continua a lavorare in questa maniera non facciamo un'utilità alla collettività quindi dobbiamo cercare di capire bene cosa è utile e cosa non è utile cosa è green e cosa non è green io vorrei che anche l'Enea fosse più coinvolto perché noi abbiamo un ente che naturalmente deve essere dotato di mezzi e risorse perché se si dà all'Enea la gestione del superbono di tante alternative senza dotarlo di mezzi e di risorse è inutile però l'Enea dovrebbe essere l'ente di ricerca che dovrebbe dire al governo al legislatore informazioni più precise e più tecniche sul tema del green vedo che spesso l'Enea non ha un ruolo importante in questa situazione e quindi dovremmo capire bene che tipo di interventi fare le tecnologie sono in continua evoluzione ma noi siamo il paese in Italia dove dovremmo puntare molto sull'innovazione sui brevetti, sull'invenzione è stato istituito da poco anche la giornata dell'invenzione insomma siamo un paese che potremmo dire molto sull'inventiva quindi dobbiamo potenziare gli investimenti sulla ricerca perché in Italia siamo molto indietro sulla ricerca quindi dovremmo finanziare la ricerca proprio perché ci sono tantissime tecnologie nuove che potrebbero essere sperimentate nei prossimi anni potrebbero risolvere tanti problemi anche sul discorso delle case green quindi credo che i professionisti devano avere un ruolo importante in questo processo ed è importante questo lavoro che stiamo facendo con avvocati, ingegneri, architetti, tecnici e professionisti di vario tipo perché solo unendoci noi professionisti facendo capire il ruolo importante che i professionisti hanno nella società un ruolo sociale importantissimo che esiste in Italia perché esistono gli ordini e non esiste invece in tanti altri paesi come l'Inghilterra, come la Germania come l'Olanda dove non esistono ordini professionali e che invece gli ordini professionali hanno un senso proprio se hanno un valore sociale i professionisti devono rivendicare questo ruolo sociale e per fare questo i professionisti hanno poi una caratteristica fondamentale che sono liberi, i liberi professionisti almeno dovrebbero esserlo alcune categorie professionisti lo sono un po' meno tipo i giornalisti insomma però diciamo dovremmo essere liberi quindi essere liberi dovremmo rispondere solo al nostro libero arbitrio e quindi fare l'interesse alla collettività e quindi non rispondere né a logiche di mercato né a un padrone che ci comanda ma dobbiamo essere liberi perciò cercherei di fare un appello al governo, al legislatore, al Parlamento affinché utilizzi noi professionisti che siamo una risorsa importante per il Paese e noi possiamo dare un contributo importante proprio su questi temi grazie grazie Marco del tuo intervento a 360 gradi veramente a 360 gradi e a questo punto come non sentire la più grossa organizzazione in Italia so che te la batti con la Naci non lo so chi ha più associati se tu o la Naci abbiamo avuto anche la Naci qui però dopo che sei intervenuto tu non vengono più li ha distrutti per cui non vengono è un'associazione assolutamente importante ma in crescita esponenziale io ho la fortuna di essere con Rosario Calabrese che è il Presidente dell'Unione Nazionale Amministratori Condominali un applauso al Presidente Spaziani Testa che nonostante i suoi impegni non speravamo di avere qui che riuscisse a venire qui ci siamo lasciati a Rimini e ci ritroviamo qui in Cassazione e quindi dicevo come non sentire la voce degli amministratori di condominio perché sono loro che sono i primi ad essere investiti da questo tipo di problematica quindi lascio la parola direttamente al Presidente Avvocato Professor Rosario Calabrese e Presidente dell'UNAI grazie innanzitutto all'Avvocato Rino Petillo peraltro per questa super lusinghiera introduzione un ringraziamento e un saluto anche a tutti i Presidenti presenti e alle personalità grazie soprattutto per aver voluto coinvolgere gli amministratori di condominio a una categoria che solitamente è ignorata e veniamo al tema di oggi la sensibilità ambientale io penso che è scontata e doverosa però deve essere coniugata con la compatibilità e la sostenibilità economica in più una buona dose di buonsenso non guasterebbe non sono un tecnico ma amministriamo condomini anche al mio occhio di operatore del settore non sfugge il fatto avendo anche girato un po' l'Europa non sfugge che le tipologie costruttive delle abitazioni dei fabbricati nelle varie nazioni europee sono diversificate una previsione che va bene per la Germania il paese che ha visto la la sua edilizia rifiorire dopo le distruzioni della seconda guerra mondiale appunto in quel periodo in una logica costruttiva che non è quella nostra del 200 300 400 500 600 fino ai nostri giorni è chiaro che richiederebbe interventi mirati differenziati e articolati in funzione della nazione che poi deve recepire e attuare quelle direttive i nostri centri storici non possono essere equiparati a una costruzione in cemento armato della Germania della Francia di altri paesi del nord Europa questa direttiva coinvolgerà risorse economiche non di poco conto risorse economiche che noi l'Italia stiamo dimostrando in questi giorni in questi anni se vogliamo da sempre si sossegue una crisi con una congiuntura la congiuntura con tutto ma quelle risorse che lo Stato dichiara di non avere men che meno ce l'hanno i privati ciò non di meno questo obiettivo green che ribadisco è pregevole è opinabile ma è condivisibile non può gravare sulle spalle semplicemente del proprietario immobiliare qui non mi voglio spostare in campi che sono sì di mia competenza ma avendo un rappresentante della proprietà compete a lui però le problematiche di tipo gestionale far tirare fuori i soldi al condomino è un problema mio mio come amministratore di condominio mio come categoria e quando i soldi non ci sono quando la gente in un contesto di crisi che stiamo vivendo continuata e vi è più aggravata di anno in anno quando il condomino si trova a dover scegliere tra riempire il piatto di minestra ai figli o versare la quota la rata condominiale al condominio alzi la mano tra voi chi verserebbe la quota invece di versare la sgommarellata di minestra nel piatto e purtroppo dopo dopo la sciagura del cambio lira euro che ci ha dimezzato il valore economico di stipendi di di del del nostro liquido circolante noi siamo la frutta ci mancherebbe gli obiettivi green ma chi non li vorrebbe io per primo sogno un mondo verde si ricordava poc'anzi che mi sono fatto l'orto sul terrazzo ci mancherebbe però non si possono fare norme come quelle del super bonus norme campate in aria questa volta è vero che in qualche misura io direi quasi per scherzo non so fino a che punto sarà serio il contributo che è stato richiesto ai tecnici se devo guardare il passato se devo guardare la storia italiana la cosa non mi lascia ben sperare però io dico e lo dico con forza le leggi che riguardano la materia tecnica vanno fatte e mi associo a quanto è stato detto poc'anzi vanno fatto spalla spalla ascoltando accettando i suggerimenti dei tecnici e in questo contesto i tecnici sono innanzitutto e ci mancherebbe gli architetti gli ingegneri ma non si può prescindere anche da amministratori avvocati commercialisti non puoi coinvolgere il commercialista esempio super bonus solo perché si deve assumere la responsabilità di dire va tutto bene è tutto ok rispondo io stiamo scherzando le leggi vanno fatte in maniera che siano operative che siano immediatamente fruibili devono essere fatte dall'avvocato dall'ingegnere devono essere pensate nell'ipotesi del contenzioso che ne potrebbe nascere delle problematiche che potrebbero nascere sul campo non si può fare la legge tanto perché così io ritorno sempre su 220 perché è un boccone amaro che non sono riuscito ancora a digerire non si può cambiare una parola che ne so conferma con rinnovo e farmi un disastro della miseria solo perché hai usato il vocabolario e hai cercato un sinonimo le leggi vanno fatte bene in italia c'è un percorso di laurea visto che prima hai ricordato le tue qualifiche universitarie c'è un percorso di laurea che era nato proprio per formare i futuri politici ci si scrive nessuno per dargli uno sbocco i laureati in scienze politiche possono fare i commercialisti no comment ok bene io voglio augurarmi che non si facciano gli errori che si sono fatti per il super bonus che nel preparare la normativa di adegua di recepimento italiana della direttiva green le figure professionali non necessariamente le persone non è che sto vi sto candidando ad andare però gli amministratori tra i professionisti in questo caso come sarebbe stato necessario per il super bonus non possono mancare gli amministratori devono esserci e devono essere fianco a fianco insieme con gli altri professionisti perché ciascuno di noi è portatore di un sapere specifico di un vissuto di una capacità operativa che si qualifica ciascuno nel suo campo e per la gestione del condominio gli esperti siamo noi unai in tutto questo lo dico in questa sede e l'ho sempre detto in tutte le altre sedi e non smetterai mai di ripeterlo l'unai c'è coinvolgeteci e verremo concludo l'adeguamento green si fa per e con i cittadini non contro i cittadini come sempre è impostata la normativa oggi speriamo che qualcuno ascolti questo mio grido disperato chiamiamolo grazie a tutti grazie Rino grazie agli ascoltatori grazie Rosario veramente del tuo accorato intervento le tue sono battaglie che porti avanti in ogni luogo ma soprattutto appunto nella convenistica italiana dove hai fatto raggiungere agli amministratori di condominio te lo dico proprio sinceramente un livello di formazione prima sconosciuto quindi bisogna darti alto io ne ho avuto proprio la contezza venendo ai tuoi convegni che il livello di formazione degli amministratori di condominio Unai è davvero top e si è visto nelle vicende del super bonus perché pur con tutte le problematiche sono riusciti diciamo a gestire nel migliore dei modi il disastro normativo di cui parlavamo prima grande convegno organizzato da Unai alla Casa dell'Aviatore dove saranno presenti alcuni di questi relatori dei nostri relatori invitiamo ufficialmente il Presidente Spaziani Testa se vuole essere dei nostri lo invito a nome del stante l'amicizia che mi lega con Rosario a nome del Presidente Rosario Calabrese perché Roma perché l'ultimo incontro che abbiamo fatto a Roma con gli amministratori di condominio ha previsto l'utilizzo di due sale parallele perché la sala da 200 posti non bastava quindi c'erano persone con il maxischermo nella sala parallela che seguivano sennò dovevano stare in piedi quindi sei riuscito a riesci a mobilitare folle veramente di amministratori di condominio poi sul fatto che tutti debbano avere la stessa cravatta questo è un giudizio che lascio a ciascuno di voi perché sono obbligati se vogliono venire ad indossare la cravatta e a vestire in maniera elegante però questo è un tuo merito avresti dovuto fare carriera militare secondo me grazie di nuovo e pospongo leggermente la scaletta anche per far acclimatare un attimo il presidente Spaziani Testa che è prima arrivato e diamo la possibilità anche di prendere l'aereo al direttore Luca Incoronato che rappresenta gli imprenditori proprio quegli imprenditori di cui parlava prima l'amico Stefano Maiandi cioè quelli che che costruiscono e montano gli ascensori elemento determinante in ogni in ogni normativa e soprattutto è assolutamente importante non solo per i disabili ma veramente per l'adeguamento per l'adeguamento alle normative che vanno a succedersi quindi direttamente la parola al dottor Luca Incoronato direttore di Anacam che raggruppa 400 imprese imprese produttive degli ascensori perfetto allora al presidente ok grazie avvocato Petillo ringrazio ovviamente l'ordine degli avvocati per l'invito rivolto all'Anacam io sono il direttore non il presidente come appunto scritto nel programma come tutte le associazioni industriali il presidente è un imprenditore io sono un dipendente a tempo pieno dell'associazione ecco lo devo fare ecco qua allora entriamo diciamo un po' nel nel pratico sulla questione dei bonus edilizi con un focus ovviamente sul bonus barriere perché l'argomento di cui noi siamo diciamo esperti in questa veste siamo venuti a parlarne ieri c'è stata una riunione di governo in cui è uscita di nuovo la questione dei bonus e il ministro Giorgetti ha ribadito ancora una volta è finita la stagione dei bonus scusate che non è il mio computer allora questa dovrebbe essere ad oggi la situazione dei bonus edilizi da qui alla fine dell'anno l'unico bonus diciamo permanente è il cosiddetto ristrutturazione edilizia che fino alla fine dell'anno sta al 50% in 10 anni e salvo interventi ormai non previsti tornerà al 36% dall'anno prossimo gli altri sono bonus temporanei ancora in vigore fino al 24 i vari eco bonus sisma bonus bonus mobili che ormai è poca cosa e super bonus come sapete tutti non è più 110 ma 70% e poi c'è il bonus barriere 75% che per quello che sono le informazioni in nostro possesso è quello che adesso sta tirando di più anche in vista della sua chiusura alla fine dell'anno prossimo ovviamente tutti tutti questi bonus hanno diciamo perso la spinta che avevano all'inizio come diceva il presidente Cerri dopo i diversi decreti che hanno sancito la fine della possibilità di accedere alle opzioni cessioni e sconto in fattura dall'anno prossimo saranno ancora in vigore bonus ristrutturazione edilizia il bonus barriere e il super bonus che scenderà al 65% questi ultimi due con termine alla fine dell'anno prossimo quindi diciamo si ripartirà dal primo gennaio 26 con il solo bonus ristrutturazione edilizia che peraltro addirittura dovrà scendere al 30% dal 28 al 33 però ecco ovviamente a fronte della entrata in vigore della direttiva case green dell'ultima edizione ci sarà necessariamente un ripensamento a livello istituzionale di quelle che potranno essere le agevolazioni per raggiungere gli obiettivi posti da quella direttiva tra i bonus edilizi il bonus barriere si distingue per essere più che un bonus edilizio abbiamo sempre detto con l'amico Maiandi di Fiabba un bonus sociale perché è diretto a sostenere spese che sono a carico di persone svantaggiate che hanno necessità di un sostegno pubblico per poter riuscire a vivere una vita di relazione normale come tutti è fondamentale noi diciamo quando abbiamo insieme a Fiabba sostenuto l'adozione di questo bonus abbiamo insistito sulla necessità che questo diventasse poi un bonus permanente perché come si accennava precedentemente la situazione dell'accessibilità degli edifici nel nostro paese è veramente critica è uscito prima il numero di 12 milioni di edifici residenziali che ci sono in Italia questo è il dato dell'ultimo censimento degli edifici e delle abitazioni dell'Istat che risale dal 2012 dal 2011 poi dopo è stato i censimenti sono diventati diciamo permanenti ma ancora non sono usciti i dati più recenti relativi agli edifici residenziali ecco la fotografia del 2011 ci dava che su oltre 12 milioni di edifici solo il 3,8% era dotato di ascensori togliamo ovviamente i 2 milioni e passa di edifici con un solo piano fuori terra e quasi 6 milioni con 2 piani fuori terra le altre categorie che sono quelle che dovrebbero essere dotate di mezzi per accedere ai piani superiori cioè 3 piani e addirittura 4 o più piani fuori terra e vediamo lì un dato sconcertante gli edifici con 3 piani fuori terra cioè piano terra e 2 piani rialzati la presenza di ascensori è ridotta al 2,3% del totale ma anche quelli con 4 o più piani fuori terra il dato complessivo era 31% cioè il 69% degli edifici residenziali con 4 o più piani fuori terra era privo di ascensori la situazione non è cambiata moltissimo non abbiamo appunto dati ufficiali ma quello che è stato potuto fare in questi due anni di bonus non ha certo contribuito a ridurre il gap è per quello che servirebbe un provenimento strutturale per rendere accessibili gli edifici in Italia la maggior parte di questi 12 milioni di edifici l'80% è stato costruito prima del 1990 cioè quando ancora non c'era la legge 13 che rendeva obbligatorio l'inserimento di un'ascensore degli edifici con più livelli quindi questa è la situazione e questo spiega anche il successo del bonus barriere che abbiamo avuto fino ad oggi quali sono noi come associazione continuiamo a ricevere non solo dai nostri associati ma proprio dai privati cittadini dai condomini continue richieste di informazioni su si può ancora avere lo sponto si può ancora avere la detrazione ecco evidentemente nonostante sia ormai parecchio tempo che è entrato in vigore il bonus non c'è ancora una conoscenza accurata dello strumento cominciamo dalla semplice detrazione dal reddito oggi per le spese sostenute sia quest'anno che per le spese sostenute l'anno prossimo tutti i contribuenti possono accedere a questa agevolazione che consiste nella detrazione del 75% della spesa sostenuta per interventi che abbiano oggetto solo però scale rampe ascensori servoscale e piattaforme elevatrici conformi alla normativa tecnica sull'abbattimento delle barriere tutti i contribuenti significa tutti i contribuenti quindi sia le persone fisiche che le società di persone di capitali che gli enti di diversa natura basta che rivestano appunto la figura di contribuenti per poter accedere a questa quindi anche l'edificio uffici l'edificio la farmacia il centro commerciale qualunque tipo di intervento che risponda ai requisiti può usufruire della detrazione le quote hanno e sono diventate 10 come sapete non più 5 come erano inizialmente vale per qualunque tipologia di edificio e per ottenerlo diciamo il vincolo vero è ottenere un'asseverazione esterna tecnica che attesti che l'intervento risponde ai requisiti del DM236 sull'abbattimento barriere inoltre c'è il vincolo per i lavori sopra i 70.000 euro dell'indicazione del contratto collettivo dell'edilizia applicato ai lavoratori che eseguono la lavorazione edile questo è il quadro per la detrazione e appunto sarà così quest'anno e l'anno prossimo quello che aveva determinato diciamo il successo del bonus come degli altri bonus sedilizi era lo sconto in fattura che come sapete è stato poi progressivamente prima ridotto e poi ormai completamente eliminato da ultimo con il decreto legge 39 del 30 aprile del 24 quel decreto però ha lasciato ancora un piccolo spazio per continuare a praticare lo sconto in determinate condizioni vediamole perché effettivamente come ripeto c'è richiesta di informazioni su questo aspetto e ci sono ancora delle possibilità residue di andare con lo sconto il legislatore ha distinto dal fine tra attività edilizia libera e attività edilizia non libera gran parte degli interventi di eliminazione barriere per la normativa edilizia rientrano nell'attività edilizia libera salvo che si realizzino degli ascensori esterni che alterino la sagoma dell'edificio oppure che si vada a incidere per gli ascensori interni sulle strutture dell'edificio negli altri casi siamo in ambito di edilizia libera e quindi per l'edilizia libera si può ancora avere lo sconto se l'intervento è iniziato prima dell'entrata in miglior DL 212 il 30 dicembre dello scorso anno oppure prima di quella data era già stato concluso un contratto e pagato almeno un acconto sui lavori in questo caso è ancora possibile applicare lo sconto diciamo come per le stesse tipologie di interventi per le quali è ammessa la detrazione oggi mentre invece se i lavori sono iniziati tra il 30 dicembre e il 30 marzo di quest'anno oppure sono stati contrattualizzati e pagati in questo lasso di tempo è possibile fare lo sconto con le limitazioni introdotte dal decreto di dicembre e quindi sulle parti comuni degli edifici solo se il soggetto beneficiario è il condominio sulle singole unità immobiliari solo se c'è rispetto di un determinato requisito di reddito o se dimora abitualmente nell'immobile una persona con disabilità accertata ai sensi della legge 104 questa limitazione sulle parti comuni al solo condominio abbiamo visto essere molto penalizzante vengono esclusi praticamente gli edifici con proprietà diversa da quella condivisa l'unico proprietario che loca una serie di unità immobiliari non è un condominio e non può quindi accedere allo sconto in fattura questa è la situazione per l'edilizia libera un punto critico è cosa significa lavori iniziati in edilizia libera non essendoci un titolo abilitativo che definisce l'inizio dei lavori questo è un punto un po' diciamo critico dal punto di vista interpretativo abbiamo visto che l'agenzia delle entrate chiede almeno un'autocertificazione di beneficiario e committente dei lavori nonché una qualche evidenza documentale che attesti che effettivamente i lavori sono iniziati per cui insomma non ci si può inventare un lavoro iniziato che veramente non lo sia però non vuol dire lavoro iniziato apertura del cantiere sono sconsiderati lavori iniziati quelli per i quali sono stati fatti tutti gli atti preliminari sopra luogo preventivo discussione del preventivo approvazione eccetera quindi questo è per gli interventi di abbattimento barriere in edilizia libera per quanto riguarda invece gli interventi in edilizia non libera quelli che necessitano di un titolo fa fede appunto la data di presentazione della pratica di edilizia in comune quindi per le pratiche presentate prima del 30 dicembre scorso è ancora possibile fare lo sconto in fattura diciamo in regime libero lasciate passare il termine mentre invece per i titoli abilitati per le pratiche edilizia presentate quest'anno fino al 29 aprile è possibile lo sconto in fattura con le limitazioni che abbiamo visto prima per gli interventi in edilizia libera cioè parti comuni solo condomini singole unità immobiliari reddito sotto i 15.000 o presenza di disabile nella unità immobiliare questa è la situazione ad oggi quindi quindi diciamo tutto sommato possibilità di sconto limitate l'obiettivo di rendere accessibili gli edifici rimane anche se finirà probabilmente nella forma che conosciamo questo sconto l'impegno nostro del settore è quello di far presente alle istituzioni qual è la situazione reale dell'accessibilità degli edifici in Italia e quindi trovare una soluzione che comunque consenta di sostenere la spesa per questo tipo di interventi per le persone che hanno più necessità di sostegno del reddito grazie grazie a te Luca ti lascio ti lasciamo ai tuoi impegni ringraziandoti sempre di aver fatto questo sforzo di dover correre all'aeroporto con il taxi adesso lasciamo la parola all'ospite d'onore e qua è stato scritto è stato scritto dottor Giorgio Spaziani testa ma lui è un collega poi presidente di confedilizia ma avvocato prima di tutto e credo che ci tenga che questo venga precisato non praticante perché anch'io non praticherei al posto del del presidente gli lascio la parola e vi ringrazio sempre per l'attenzione che state mantenendo su questo tema molto importante io sarò devo essere molto breve perché ero inserito nella sezione indirizzi di saluto e anche perché credo che certamente le persone che sono presenti qui e quelle collegate sono interessate a continuare a seguire gli interventi che sono appena iniziati quelli nel merito delle questioni era già molto interessante la prima relazione quella sulle detrazioni in generale e quelle sulle barriarchie tettoniche in particolare perché però tornando ecco diciamo al titolo del del convegno qualche brevissima considerazione senza rifare la storia della direttiva casegrin che in qualche caso abbiamo fatto anche in quest'aula e anche citando io almeno da parte mia l'impegno della confedilizia per contrastarla sin dal 2021 poi ottenendo qualche qualche diciamo modifica dal nostro punto di vista positiva e registrando poi ma solo poi e solo adesso sull'intero Green Deal europeo qualche ripensamento perché se guardiamo a quello che si diceva nel 2021 2022 e a quello che si dice adesso su diversi aspetti del Green Deal le cose sono cambiate abbastanza anche in virtù delle elezioni europee ma non solo se pensiamo a quello che leggiamo in questi giorni proprio in queste ore sulla questione auto per esempio prima era un tabù dire che quella impostazione che veniva data che è tuttora presente quella del blocco diciamo della 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 produzione di auto tradizionali a partire dal 2035 insomma parecchio rischiosa per dirla in maniera cauta prima non si poteva dire ora lo stanno dicendo in tanti e lo stesso un po' diversamente sulla direttiva casegrin noi l'avevamo contestato sin dall'inizio l'impostazione impositiva coercitiva e poi il vulnus iniziale il problema che c'è in qualsiasi direttiva europea però è particolarmente accentuato in quella che riguarda in una direttiva che riguarda le case gli immobili in generale europei il fatto che debbano ricadere le stesse disposizioni su luoghi aree famiglie società completamente diverse e quindi al di là delle impostazioni di fondo che noi per esempio abbiamo criticato anche negli obiettivi ma al di là di quello anche se si condividesse l'obiettivo di arrivare al 2050 ad emissioni zero il modo di arrivarci è a nostro avviso sbagliato e qualcosa viene cominciata si comincia a dire nuova impostazione da questo punto di vista nuova maggioranza europea cioè nuova non nuova maggioranza nuova insomma cambiamento che c'è stato nel voto abbastanza rilevante non a mio avviso diciamo conseguente cambiamento nella maggioranza europea e perché abbiamo visto esserci ancora non la voglio mettere troppo in politica ma abbiamo visto esserci ancora una presenza della componente verde che non è l'unica responsabile io uso questo termine di questa impostazione perché popolari e socialisti hanno condiviso parte la componente italiana dei popolari cioè Forza Italia hanno condiviso quasi tutto il Green Deal quindi questo è il quadro nel quale poi si colloca tra l'altro ieri il rapporto Draghi che io non commenterò perché non faccio parte delle migliaia di persone che non avendolo letto essendo 400 pagine per giunta in inglese lo commentano in migliaia l'avranno letto in due o tre io non mi inserisco fra le migliaia cercherò di capire nei giorni cosa dice questo rapporto ma forse c'è qualche elemento di novità anche in questo rapporto sulle politiche riguardanti la transizione energetica tutto questo anche per dire che poi c'è un impegno c'è da sicuramente da recepire la direttiva perché questo prevede il diritto comunitario però c'è anche un impegno di questo governo ad impegnarsi scusate il bisticcio per prima di recepirla tentare di modificarla in sede europea e quindi credo che questo debba essere sempre considerato c'è un'intervista proprio di ieri al messaggero del ministro dell'ambiente Pichetto Fratin che dice cose secondo me interessanti dal punto di vista della nuova impostazione delle detrazioni qui si parlerà ancora molto delle detrazioni in essere di quelle future credo che lì ci sia qualche elemento interessante quando il ministro dice che probabilmente si va verso un sistema di detrazioni differenziate per categorie di soggetti ovviamente con riferimento al reddito e alla disponibilità delle famiglie cosa non risolutiva secondo me ma che potrebbe essere comunque un passo in avanti noi abbiamo sempre segnalato il fatto che Rosario Calabrese conosce perfettamente che nei condomini ci possono essere situazioni completamente diverse ci possono essere famiglie con un determinato reddito e famiglie con un reddito completamente diverso a parte situazioni ovviamente di condomini in zone particolarmente degradate o in zone particolarmente benestanti e questo rende faticosa quella differenziazione quell'idea che spesso è stata avanzata di distinguere fra famiglie e dare incentivi agli uni e non darli agli altri forse forse l'idea di calibrarli diversamente nell'ambito per esempio poi del condominio quando si tratta di intervento condominiale potrebbe essere una strada fermo restando però che come è stato già detto c'è l'elefante nella stanza che è dato dall'assenza ormai del sistema di accessione di credito sconto in fattura perché sappiamo tutti che qualsiasi incentivo io li chiamo incentivi e non bonus dal 1997 ad oggi io li chiamo sempre incentivi qualcuno potrebbe essere definito bonus perché è più un regalo ma l'idea è di incentivare a fare qualcosa con varie finalità che sia come nel 97 con la detazione di ristrutturazione di liste e l'eliminazione del nero che sia l'efficientamento energetico che sia il superamento delle barriere architettoniche che sia il miglioramento della sicurezza sono incentivi a fare qualcosa sul presupposto di una finalità pubblica di interesse generale condivisibile o meno ma quello è per raggiungere però l'obiettivo dell'incentivo c'è un pre e post super bonus che non è secondo me legato solo e tanto ma lo sappiamo tutti all'entità della detrazione e quindi si potrà discutere sui livelli ai quali si arriverà in particolare per l'efficientamento energetico ma il discrimine è quel sistema che ha cambiato le carte in tavola naturalmente quello dell'accessione del credito e sconto in fattura e quindi sarà comunque difficile anche con un passo in avanti che potrebbe essere quello che dicevo poco fa della differenziazione di eliquote in relazione al reddito e quindi un incentivo comunque a tutti i componenti di un condominio sarà comunque difficile ottenere grandi risultati senza quel sistema che però non è minimamente pensabile di tornare a avere taranne insomma accadimenti veramente clamorosi perché se come sappiamo addirittura chi aveva gli interventi in corso è stato di fatto calpestato perché questo è avvenuto da vari governi perché la storia recente dice questo figuriamoci per i nuovi interventi che cosa si prevederà e quindi non credo che si potranno ottenere grandi risultati semplicemente con detrazioni alte e basse di qualsiasi tipo perché sappiamo che la differenza la fa il poter consentire a qualcuno a tutti teoricamente prima o a qualcuno se si cambiasse impostazione di non anticipare nulla come si è sempre detto poi sappiamo che molte spese alla fine si devono in realtà sostenere e quindi credo insomma anch'io che sia molto così difficile il quadro dei tempi prossimi e siamo tutti in attesa di capire cosa verrà effettivamente fatto al di là di questa intervista che citavo del ministro Pichetto Fratinna quindi secondo me lo schema deve essere tentativo forte di cambiare quella direttiva perché quella è la direttiva che condiziona tutti perché in assenza di quella direttiva e quindi non c'è un obbligo diretto sappiamo tutti però c'è un'impostazione forte in assenza di quella si prenderebbe il quadro degli incentivi esistenti dal 97 a oggi che è infinito si farebbe uno studio su cosa diciamo produce cosa non produce cosa costa cosa non costa più o meno si farebbe una selezione lo Stato probabilmente se si facesse un lavoro serio risparmierebbe da qualche parte perché ci possono fare delle scelte per esempio sulla detrazione e ristrutturazione edilizia si arriverà al 36 non solo al 36 ricordo ma ricordo anche con abbassamento notevole forse di mezzamento del massimale che conta anche quello quella è una scelta riemergerà del nero era nata per far sparire il nero o ridurlo riemergerà il nero è una scelta che il governo fa però è una scelta si riduce lì si può ridurre per dire l'incentivo per l'acquisto di un box dico una sciocchezza a caso per la sicurezza dal punto di vista dei furti ci sono incentivi su tutti ma non abbiamo la libertà secondo me il governo non ha la libertà di fare questo quadro ammesso che lo volesse e che riuscisse a farlo perché c'è la spada di Damocle della direttiva efficientamento energetico con le conseguenze che si avranno anche sulle barriere architettoniche perché questa è la realtà se metti troppe risorse comunque le si metta su una parte e le togli da un'altra e una cosa alla quale noi teniamo molto spingiamo molto su questo la sicurezza dal punto di vista dell'antisismicità degli edifici che è un assurdo se pensiamo in Italia per altri paesi è chiaro che la priorità è l'efficientamento energetico per noi la priorità a mio avviso dovrebbe essere il miglioramento sismico perché siamo un paese diverso da quelli del nord Europa quindi questo è il quadro e dovremo vedere cosa accadrà in queste settimane per capire se ci sarà un intervento rilevante dal punto di vista del del riordino e chiudo dicendo che poi tutto questo si inserisce in un quadro che secondo me ha avuto un miglioramento non c'entra col tema ma lo cito anche perché vengo adesso da fatto tardi per quello un'audizione che abbiamo avuto in Commissione Ambiente come Confedilizia Commissione Ambiente Camera sul cosiddetto decreto Salva Milano che è quella norma in teoria valida per tutta Italia in realtà anzi no sarà valida per tutta Italia se sarà definitiva una proposta di legge con diciamo accelerata alla Camera per risolvere le questioni che sono nate sugli interventi edilizia a Milano e che doveva entrare nel Salva Casa lo dico la cito perché per dire che comunque c'è la novità da considerare bene ancora nei prossimi mesi perché secondo me non è partita ancora come dovrebbe partire degli effetti del cosiddetto Salva Casa che noi abbiamo salutato come confidelizia con favore e che avrebbe potuto avere ancora più vantaggi per il mercato immobiliare se si fosse potuto diciamo così incrociare con un sistema di incentivi adeguato questo invece va a cadere va a calare va a ridursi quindi dobbiamo capire cosa accadrà avevo detto che sarei avrei dovuto essere breve forse non lo sono stato comunque ringrazio ancora per l'invito l'avvocato Petillo e l'ordine e tutti coloro che hanno organizzato questo intervento e il resto ad ascoltare le relazioni è sempre un piacere ascoltare il presidente Spaziani Testa e dell'avvocato Massimo Forte capo team dello studio di diritto tributario Petillo e Partners che mi onoro di coordinare nonché coordinatore della sezione giovani della Camera degli Avvocati Tributaristi di Roma interverrà sul tema i controlli dell'Agenzia delle Entrate l'accertamento fiscale indicando però non solo ciò che sta avvenendo ma anche quelli che possono essere gli strumenti di difesa a te la parola Massimo grazie ringrazio il collega Guerrino Petillo ringrazio come sempre l'ordine degli avvocati e anche l'ordine degli architetti e degli ingegneri che ci hanno visti in questi anni principali diciamo fautori di approfondimenti non solo diciamo didattici lato senso ma anche professionali e politici nelle precedenti puntate sia qui che nei rispettivi ordini abbiamo un po' analizzato la posizione di questa normativa del decreto rilancio le sue evoluzioni le modifiche gli aspetti critici cercando di anticipare anche quelle che sono poi state le soluzioni in questi in questi ultimi anni oggi diciamo il nome del convegno già ci richiama un qualcosa di di postumo stiamo se vogliamo gettando il cuore oltre l'ostacolo e di ostacoli qui ce ne sono molti alcuni già non hanno tardato a farsi vedere sia su un piano se vogliamo di consulenza sia su un piano di contenzioso per lo più civilistico si è parlato infatti di criticità sorte nei contratti di appalto nel cosiddetto blocco nella gestione dei crediti e noi stessi siamo stati chiamati a patrocinare sia nel lato impresa sia nel lato condomini questo diciamo è una cascata che poi va anche a colpire i professionisti ingegneri o architetti che sono stati poi coinvolti nelle operazioni super bonus ma oggi parleremo non di profili se vogliamo civilistici o di di contenzioso già sorto ma di profili di rischio fiscale per i beneficiari e non solo nelle operazioni di super bonus anche qui i profili di rischio che siamo già allo step successivo rischiano di concretizzarsi il collega Spaziani Testa parlava di incentivi in alcuni casi di regali stante il grado di detrazione fiscale regali che rischiano di dover essere restituiti anche con con gli interessi non è infatti un segreto che l'agenzia delle entrate e le guardie di finanza si siano attivati negli ultimi anni sin dal 2023 nella creazione proprio di team di squadre per il controllo e l'analisi dei dichiarativi in merito a bonus fiscali non sono tardate infatti ad arrivare anche richieste di inviti formali di sospensione ovviamente dei bonus e delle operazioni di cessione del credito e gli obiettivi di accertamento e di controllo che sfoceranno in alcuni casi come vedremo sono già sfociate in atti di accertamento erano già chiari per esempio ricordo un precedente convegno sul concordato preventivo biennale dalla relazione illustrativa del concordato preventivo che si soffermava proprio sui contribuenti che negli anni successivi avrebbero detratto portato in detrazione crediti fiscali in più negli ultimi anni ci sono stati anche per esempio ad agosto 2023 tra l'agenzia dell'entrata e il MEF una convenzione siglata proprio per incentivare e coordinare le attività di controllo e di analisi infine piano di organizzazione il cosiddetto PIAO dell'agenzia delle entrate che pianifica l'attività da qui dal 2024 al 2026 proprio su tre filoni di accertamento e di controllo sul bonus fiscale il primo legato ad un aggiornamento catastale che quindi negli anni sarà da base per nuove e più gravose imposizioni e su questo diciamo dovrebbe essere fatto un convegno a parte perché la materia catastale è vastissima il secondo sulle plusvalenze che si origineranno dalle cessioni a titolo oneroso di immobili oggetto di interventi di super bonus e infine poi su tutte le spettanze e quindi non riconoscimenti dei crediti d'imposta legati ad errori nei dichiarativi o nelle comunicazioni passando al primo tema ovvero le plusvalenze che stanno diciamo interessando i dibattiti non solo mediatici ma anche professionali bisogna citare ovviamente la legge di bilancio 2024 la 213 del 2023 che ha modificato l'articolo 67 del TUI in materia di redditi diversi in questa categoria sono infatti state incluse le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di immobili che hanno beneficiato degli interventi di super bonus tale normativa a efficacia a partire dal primo gennaio 2024 e colpirà appunto tutti gli immobili oggetti di super bonus a tal proposito citerei anche la circolare 13 2024 dell'agenzia delle entrate che specifica anche alcune ipotesi di esclusione e anche le modalità applicative della cosiddetta imposta sostitutiva del 26% sono infatti esclusi comunque gli immobili acquisiti per successione e gli immobili adibiti a prima casa per la maggior parte del periodo preso a riferimento dunque i 10 anni dalla fine dei lavori in termini semplicistici chi ha una seconda casa e questo è l'esempio diciamo di scuola che ha beneficiato di un super bonus 110 e la cede a titolo oneroso entro i successivi 10 anni sarà ovviamente inciso da un'eventuale tassazione sulla plusvalenza che potrà realizzare tra il prezzo di acquisto dell'immobile e il prezzo di cessione dello stesso in più l'agenzia ci specifica che potranno essere detratti e quindi considerati i costi sostenuti in merito agli immobili stessi solo per il 50% se l'immobile viene ceduto successivamente ai 5 anni non potranno essere invece considerati i costi sostenuti per questa tipologia di immobili diversamente nei primi 5 anni dalla fine dei lavori sarà sufficiente anche solo l'intervento realizzato sulle parti comuni quindi non è necessario che il proprietario dell'immobile o comunque il soggetto che abbia beneficiato del credito che abbia realizzato interventi interni trainati ma sarà sufficiente anche un intervento trainante comune pensando ad un immobile condominiale sarà dunque necessario e sufficiente per far sorgere questa nuova imposizione sulla plusvalenza un intervento sulle parti comuni del condominio la plusvalenza si dovrà dunque considerare quale differenza tra come dicevamo prima il corrispettivo percepito dalla cessione neurosa dell'immobile e il prezzo di acquisto quest'ultimo poi sarà aumentato di ogni altro costo inerente e non direttamente conseguenziale all'applicazione del 110 per esempio se il titolare ha beneficiato di un altro bonus edilizio quindi 50 65 90 quest'ultimo potrà comunque essere considerato come costo che potrà essere dunque detratto dalla plusvalenza realizzata sulla scorta di tale modifica normativa che comunque va a gravare sui beneficiari ultimi del credito d'imposta e che quindi svela anche qui una finalità di far cassa da parte dello Stato non non sono tardati ad arrivare anche degli accertamenti e ne parlavamo tra l'altro poco tempo fa con l'ingegner Angeli che hanno qualificato queste plusvalenze come non come redditi diversi esensi dell'articolo 67 del tuir bensì quali redditi di impresa esensi del 55 sempre del tuir con tutto ciò che ne consegue anche per i profili IVA di fatti questa diciamo corrente dottrinale si aggancia ad una giurisprudenza della Cassazione che in alcuni casi ha riconosciuto la qualifica di reddito di impresa anche nei casi in cui quest'ultimo quest'ultima non dovesse derivare da un'attività professionale abituale da cosiddetto imprenditore ma legata anche ad una sola cessione ad una sola operazione stante l'elevato ed ingente tenore dell'operazione stessa e anche se ovviamente il soggetto non sia un imprenditore in senso stretto quello che va sostanzialmente a dirimere queste posizioni è l'intento speculativo e diciamo il requisito del prezzo dell'ingente costo o diciamo corrispettivo che ha generato l'operazione stessa in questi casi tuttavia sorgono delle criticità anche da un punto di vista giuridico e bisogna guardare anche le differenze tra le singole fatti specie nel 2019 l'agenzia delle entrate con un'istanza di interpello nota celebre ovviamente qualificò un intervento di ristrutturazione come attività di impresa realizzata da un privato perché attraverso diciamo ve la faccio in brevissimo attraverso un intervento di ristrutturazione questo privato aveva trasformato un lotto ottenendone 49 box che ha rivenduto sostanzialmente per un prezzo di molto superiore a quello di acquisto in questo caso la singola operazione può dirsi attività di impresa seppur con qualche criticità diverso è il privato che si trova a cedere anche per motivi di personali o di urgenza una seconda casa oggetto di interventi di super bonus peraltro magari senza il proprio consenso e vedremo un'ipotesi del genere e dovrà sopportare una tassazione come minimo del 26 sulla plus valenza come da recente normativa e in alcuni casi anche accertato perché reputato imprenditore in questi casi sicuramente nella seconda ipotesi occorrerà valutare la situazione se del caso poi promuovere anche un ricorso alle corti competenti sul primo ovviamente sarà necessaria un'attenta pianificazione fiscale sia per le tempistiche sia per la tipologia di immobili sia per gli interventi sia per i crediti e le spese da registrare per far sì che questo ammontare questo plafond diminuisca sulla tassazione della plus valenza bisognerebbe poi aprire un capitolo anche sulle incertezze dovute come dicevo prima a chi non ha voluto partecipare al super bonus in ambiti condominiali ma optortocollo è stato comunque costretto a parteciparvi chi non ha dato l'assenso nell'assemblea condominiale che però si ritrova comunque un immobile se vogliamo impreziosito da lavori di ristrutturazione ad documentosismi unico sulle parti comuni degli immobili e chi anche viene in mente l'ipotesi abbia ceduto la propria quota di credito agli altri condomini ai sensi del vado a memoria comma 8 ter dovrebbe essere dell'articolo 119 del decreto rilancio anche in questi casi se leggiamo la circolare dell'agenzia delle entrate si può presumere che questo soggetto dovrà potrà essere inciso da questa tassazione separata sulla plusvalenza realizzata sull'eventuale cessione infradecennale altro problema è rappresentato invece dagli errori sulle comunicazioni venuto meno con il decreto 39 del 2004 la remissione in bonus si vanno a palesare tutta una serie di difficoltà e di disconoscimento anche dei crediti e delle cessioni successive in materia di super bonus questo coinvolge non solo i beneficiari ultimi ma soprattutto anche le imprese coinvolte nelle operazioni che hanno ceduto i crediti che adesso trovano sospese queste operazioni non da ultimo anche gli amministratori di condominio che eventualmente su alcune comunicazioni avessero sbagliato dei codici fiscali o avessero attribuito codici fiscali diversi a soggetti condominali o in alcuni casi come ci è capitato è stata semplicemente sostituita il numero zero di un codice fiscale con la lettera O dell'alfabeto in questi casi venendo meno la remissione in bonus e ce ne stanno capitando tanti di questi di questi casi si rischia il disconoscimento del credito e dunque un eventuale successivo accertamento dell'agenzia delle entrate parlando con vari direttori in tutta Italia perché ci troviamo in questo frangente a dialogare con l'agenzia delle entrate molto spesso ci accorgiamo che tanti hanno pronti già gli atti conseguenti altri sono invece più inclini a muoversi nell'ambito di un'autotutela che ricordo oggi con la riforma del processo tributario diviene anche impugnabile il successivo rifiuto tacito o espresso nell'autotutela ma comunque si sta ingenerando una situazione che se prima creava solo problemi da un punto di vista civilistico e dei rapporti di appalto adesso ovviamente l'agenzia ha otto anni per come sappiamo per muovere le sue pedine sta creando problemi anche da un punto di vista fiscale e quindi questa sarà la sede per confrontarci non solo tra noi avvocati fiscalisti ma anche tra ingegneri architetti e perché no anche commercialisti gli strumenti a mio avviso sono plurimi intanto bisogna che il cliente o anche colleghi e professionisti in generale su questo settore abbiano l'accortezza di effettuare una pianificazione fiscale corretta e che riesca anche a importare un risparmio di imposta al cliente soprattutto nell'ambito come vedevamo prima delle plusvalenze in più abbiamo visto che un importante strumento può essere rappresentato da consulenze e pareri proveritate che nel dialogo con l'agenzia delle entrate molte volte premiano il contribuente fanno risparmiare anche successivi e costosi contenziosi l'autotutela che oggi ritorna quale strumento invoga stante anche l'impugnabilità dell'esito negativo e infine ultima arma come vedevamo prima su eventuali qualificazioni errate da un punto di vista giuridico e tecnico rappresenta ovviamente il ricorso in tutte queste attività non smetterò mai di ribadirlo è importantissimo e rappresenta di fondamentale importanza un'interdisciplinarità e un confronto fattivo e continuo con tutti i professionisti e gli attori in campo io spero di essere stato celere nel mio intervento sei stato perfetto e nei tempi giusti grazie per l'ottimo intervento aggiungo soltanto che di questi strumenti stiamo trattando con i più prestigiosi docenti delle università romane presso l'auditorium di Cassaforense abbiamo in piedi il master il corso di alta formazione in dieci lezioni diciamo vengono da tutta Italia e abbiamo il tutto esaurito però a Roma Cassaforense ha fatto aggiungere 20 sedie chiedendo l'autorizzazione ai vigili del fuoco per cui c'è la possibilità fra chi manca perché non può e le sedie aggiunte di poter partecipare io mi onoro della direzione scientifica non pensavo che avesse questo risultato da tutto esaurito fin dalla prima lezione e in pieno agosto in pieno scusate luglio quando faceva davvero molto caldo però evidentemente l'argomento degli strumenti dei flattivi interessa enormemente le situazioni di cui parlava Massimo prima ci hanno occupato ieri a studio fino alle 10 di sera il caso di un condominio enorme lavori per 6 milioni di euro erano più condomini credo no? seriali lavori per 6 milioni di euro dove per un codice fiscale sbagliato è venuto giù il finimondo quindi non essendoci più la remissione in bonus perché è terminata nessun direttore dell'agenzia delle entrate si assume la responsabilità di fare una remissione in bonus senza la fonte normativa di sostegno e questo ribadisco quanto ha detto Massimo sarà il grande problema dei prossimi anni ecco sottolino questo perché ci troviamo nella sede della commissione di diritto tributario e quindi ci vorrà una preparazione specifica molto attenta e molto dettagliata e quindi invito tutti i tributaristi che ci seguono più diciamo i membri della commissione di diritto tributario ad allertarsi su questo perché sta per venire giù una pioggia molto forte allora grazie per aver accettato questa precisazione adesso passiamo al penultimo relatore il professor architetto Claudio Camilleri con cui mi lega un'amicizia trentennale quarantennale forse siamo arrivati perché stiamo diventando anziani docente universitario da sempre autore di numerose pubblicazioni di successo e da sempre persona poco allineata molto critico e senza pelli sulla lingua sei libero di parlare non dico nei facoltà 15 minuti per te grazie allora intanto ringrazio sempre l'ordine degli avvocati e Guerino Petillo in particolare perché ha capito dall'inizio insomma di questa attività convennistica la relazione che ci deve essere tra architetti ingegneri e avvocati perché questa cosa purtroppo c'è la mia figura da subito ma anche quella di pochi altri colleghi e ha capito dal tempo dell'università in cui eravo studente che in questo paese si è già costruito tutto quindi i famosi archistar e tutte queste personalità possono fare poco perché comunque sia in Italia rispetto al resto d'Europa e parlo soprattutto dell'Europa continentale io metterei una linea magino tra il sud e il nord perché lavorando anche un po' al nord Italia mi rendo conto torno da poco da Berlino e da Hamburgo che sistemi costruttivi clima che c'è stato prima adesso fa caldo anche lì devo dire però diciamo che tutto quello che riguarda le tipologie edilizie molte volte sono diverse la nostra storia del sud parlo del Mediterraneo rispetto a quella del nord è completamente differente e allora parlando della casa green e andando a sentire molto attentamente tutti i relatori che hanno fatto i saluti devo dire incredibilmente hanno toccato vari problemi su cui non vado a ritornare perché io mi ero preparato pure delle slide però ho capito comunque i dati che io pure magari non sto tanto attento perché guardo soprattutto la parte normativa che il mio lavoro è quello soprattutto di ausiliario nel Tribunale Roma e quindi poi ritorna tutto a noi e dico ai colleghi avvocati che sono custodi e delegati alla vendita che dobbiamo fare un lavoro enorme ma anche nelle sezioni ottava sesta quindi dove sono anche i condomini e sarà un problema nostro adesso perché già si è complicato tutto noi avevamo non voglio rifare la storia perché ci metterei troppo tempo e siamo diciamo abbastanza troppi relatori rispetto al tempo io sono abituato a fare queste lezioni universitarie che però poi se io vado a vedere qua come dicono gli studenti gli viene il mal di testa quindi sono andato alla fine diciamo in questo momento più che il professore nel segamerino devo andare via perché se gli viene il mal di testa francamente io me ne devo andare non gli posso non dire mettendo anche 27 30 tutti i voti che mettiamo altri per forza perché comunque poi alla fine l'università si è privatizzata in qualche maniera io non posso dire quello che sta succedendo perché la valutazione immobiliare la valutazione di tutto quello che succede cioè il patrimonio comunque a cui gli italiani sono legati maggiormente è proprio la casa e quindi se io praticamente non so attento alla storia quindi alla presistenza e alla provenienza parolone difficili da capire se uno non è proprio avvocato del settore oppure tecnico del settore sono la cosa più importante in assoluto di qualsiasi metodo americano che diavolerie che già l'aveva inventato l'estimo quindi sono parametri ascendenti o discendenti molto meno importanti di quello che come io prevedevo già dai banchi di scuola della parte amministrativa quindi dello studio della presistenza e provenienza quindi calcolate che adesso volevo comunque ringraziare perché mi ha aperto ancora di più facendo il relatore comunque io dall'altra parte seguo sono comunque uditore il presidente della confedilizia e soprattutto il presidente dell'UNAI che non avevo mai sentito prima gli altri più o meno ce l'avevamo già visti e sentiti per i dati sconcertanti in cui vedo che comunque ci sono ancora tantissimi edifici da mettere a posto perché noi dobbiamo per forza stare in Europa e fare quello che dice l'Europa però del nord e allora noi non c'entriamo nulla perché noi siamo comunque io guardo sempre la storia io al contempo sono un professore non lo dico mai ma sono un professore strutturato di arte e poi missione adesso sono all'Università di Almeria e quindi sto insegnando a loro a venire in Italia a capire come funzionano le energie rinnovabili e risparmio energetico uscirà un'altra pubblicazione in spagnolo credo prossimamente perché la burocrazia li abbiamo insegnata pure noi loro me lo dicono sempre stiamo stati bravissimi dice quindi lì c'è un certo sistema turnitin per l'antiplaggio cioè bisogna citare tutti quanti poi non si trovano le persone da citare perché queste materie sono talmente nuove che per fare tutto l'iter della commissione poi per far ritenere lo scientifico ci metto due anni e i soldi del PNRR per energie rinnovabili ti salutano perché sono andati via quindi già è successo per altri casi questo fatto allora noi praticamente da quello che vedo e da quelle slide che non vi sto a tediare a farle vedere sono tipo pazzetti che piacciono molto ai miei studenti allora lì praticamente ci abbiamo noi da considerare tre storie italiane ci abbiamo la prima parte del risparmio energetico con una 373 del 76 fatta benissimo e calata nel territorio italiano a un certo punto c'è l'Europa Unita quindi l'Italia passa da un soggetto attivo quindi il primo peraltro paese non so se tutti lo sanno che comunque si era inventata qualcosa per i nuovi edifici per la trasmittanza che doveva essere di valore molto basso quindi per riuscire a contenere il risparmio energetico andiamo noi a diventare succubi cioè sudditi di una situazione che non ci appartiene e da lì la corsa la corsa enorme non guardando per esistenza e provenienza ci sono ancora guardate delle confusioni pazzesche alle quali io non so adesso con gli avvocati amici avvocati io mi sento più avvocato che purtroppo che un architetto io vedo nella legge degli sfondoni assurdi che sarebbero cioè la legge per carità io sono d'accordo l'idea è tutto bene però il 380 era chiaro adesso andiamo a vedere non vado nei dettagli perché è veramente da morire io non firmerò mai più niente a parte al tribunale di giudicare diciamo se quello è stato bravo o cattivo e se l'immobile può essere vendibile o meno ma lì mi salva la vendita forzata che è una parola tecnica che molti non sanno non so quanti ci stanno seguendo a casa io posso vendere quello che mi pare in forza di autorità giudiziare e poi il giudice ratifica ovviamente quello che dico allora però invece nel caso della sistemazione di una cosa un immobile che ha dei problemi e guardate il 99% voi direte casa mia è tutta regolare vengo io io ve lo garantisco che vengo a vedere e c'è casino pure a casa vostra ok perché purtroppo o la parte della provenienza che sarebbero gli atti di proprietà dal ventennio prima del ventennio in avanti quindi fino ai giorni nostri che io devo ribattere completamente trovo sfondoni da parte di notai magari non accurati non che ne so ci sono stati dei casi in cui proprio il notaio scrive delle cose incredibili magari lasciando alle parti la responsabilità io il notaio mi sono esonerato dalle parti della sua memoria sta versetto ok quindi non controllando nulla trovo problemi problemi enormi anche di provenienza che sarebbe più facile da verificare ma quando vado sulla presistenza io fino al 380 mi trovo abbastanza bene perché è un testo unico nazionale devo dire a parte la regione toscana che ci ha avuto dei momenti insomma di differenziazione è abbastanza omogeneo poi c'è l'interpretazione abbiamo avuto le autonomie io non sto facendo un discorso politico sto facendo un discorso tecnico io che sono un architetto di provenienza di Roma non potrei mai capire il processo edilizia a meno di non studiare tantissimo in un'altra regione non autonoma una regione normale non la dico perché poi dopo chissà chi mi sente però io stesso ho avuto dei problemi con la presistenza edilizia e ci li ho tuttora in un immobile in una città medievale mi è stato detto in questa città medievale che praticamente il catastale è probante e io li boccio adesso non li posso più bocciare però diciamo normalmente sto molto attento a questo perché noi non siamo nel mondo anglosasso nel mondo germanico l'Austria non c'è più io lo dico sempre non ci sono più gli imperatori di Austria che ci comandano e quindi alcune zone ancora sono rimaste così dell'Italia sono quattro se non ricordo male al nord ho fatto una piccola storia e per cui i cittadini ritengono che questo benedetto catastale è probante adesso mi trovo nella legge che anche il legislatore mi dice che tra i documenti probanti ci sta il catastale ma noi non ce l'abbiamo questa possibilità di andare a vedere i documenti probanti o probatori che siano il catastale perché all'epoca chissà un po' questa disciplina veniva il messo del catastro non c'era il professionista che viene sfruttato dall'agenzia d'entrate perché comunque mette bene o male il suo sistema che dovrebbe essere abbastanza probatorio non mai probante però diciamo che noi abbiamo un sistema dove veniva il messo del catastro mi raccontano e quindi con la fettuccia tirava sta fettuccia e bisognava vedere allora per l'edificio in generale io ritengo che la norma sia anche corretta in alcuni casi non lo è il 50% ve lo dico nel caso mio mi chiamano solo per casi disperati va bene torno adesso dalla costiera cilentana dove ho visto una situazione sono andato più che altro per studio mio perché non ho mai visto una cosa del genere dove il catastro non è neanche probatorio perché sono molto bravi poi quelli che riescono a manipolare più di me la situazione catastro quando mi vedo che la situazione che tra i documenti i probanti o probatori non si capisce c'è il catastro posso vederlo per l'edificio ma non per il singolo immobile addirittura in un albergo alle euro enorme non c'è stavano due piani col tribunale siamo andati due piani non c'erano quindi vuol dire che all'epoca quando hanno fatto l'accadastamento non sono stati attenti cambia tutto non vi voglio fare la lezione dalla legge finanziaria del 23 dicembre ancora mi ricordo a memoria del 2006 quindi la finanziaria del 2007 a quel punto può essere anche probatorio perché il direttore dei lavori prima di fare il collaudo finale deve accadastare prima no perché io stesso quando facevo diciamo non l'archistar ma il pischello progettista e dicevo al cliente per evitare di gravare sulla situazione poi lo accadasterai tanto non te fanno mai la multa quindi saranno 250 mila lire mi pare due euro non me lo ricordo comunque adesso deve quindi vuol dire che se tu non lo fai il collaudo non c'è finale che sarebbe il fine lavori per i privati e quindi il processo è addirittura annullato ok a parte alcuni casi che si può riprendere è così quindi abbiamo già questa cosa che avete capito forse sono stato troppo tecnico ma in linea di massima che ci sono dei problemi enormi sulla parte della preesistenza il catastale non può fare fede forse può fare fede la Saranisti comunque i rilevamenti che ci abbiamo avuto da elicottero nel tempo da aerei non lo so però insomma quello è abbastanza probatorio non si vede chiaramente lì l'immobile ma tutta la parte degli appartamenti dei condomini che io vado a trovare e comunque ci sono difformità da tutte le parti ma come viene sanata con questa legge l'idea è sempre buona io credo che questi nostri politici sono in buona fede però come ha detto Alcaro col quale mi sono fermato adesso che è andato via noi abbiamo praticamente una formazione che neanche basta per vedere quello che diceva il 380 perché il 380 in università lo dico solo io perché gli altri si occupano di risparmio energetico sostenibilità e tante altre belle cose guardando quello che succede all'estero siccome il professore ordinario deve scrivere perché se no non gli fa titolo scusate che dico queste cose ma è importante deve scrivere quello che fanno all'estero lo ripropone agli studenti italiani ma gli studenti italiani chi glielo racconta il diritto urbanistico bene non con i pupazzetti bene lo deve sapere bene più dell'avvocato perché l'avvocato tante volte queste cose non le sa sono rarissimi gli avvocati urbanisti rarissimi proprio rari quindi una volta che io sto al tribunale sia il custode che mi segue sicuramente in tribunale dopo anni di esperienza sa fare anche in parte il mio lavoro perché seguendo poi deve essere poi diventa delegata alla vendita col cosiddetto 569 del codice di procedura civile quando io l'uomo del monte dico si si può vendere allora lei lui praticamente prende tutto quanto e diciamo il processo più o meno lo capisce però ci vogliono gli urbanisti io vado a vedere questa legge credetemi è un mese che sto scrivendo un articolo io perché quando lo scrivo imparo e ci sono dei punti adesso non ho portato la bozza mia dove per esempio si parla di cambio d'uso del sottotetto allora il cambio d'uso del sottotetto una parte dice che si può fare sempre non guardiamo le regge di giornale guardiamo quella proprio poi dopo un certo punto dice però la pianta deve rimanere quella poi dice però le finestre non si possono modificare e puoi modificare il tetto dice così puoi modificare il tetto lo puoi modificare non dice sta cosa però diciamo che l'unica cosa che mi rimane è fare aprire le falde sperando che quello c'è la falde e praticamente angolare in modo più acuto queste falde però non deve surpassare pensate che complicazione il colmo ultimo del tetto quindi mi immagino che solamente una chiesa che ha un bel campanile lungo posso fare questa cosa perché lo alzo c'è il campanile più alto mi può aiutare questo campanile pregando forse riesco a farlo passare allora quindi la norma ve lo dico io e lavoro continuamente sulle norme continuo proprio questo lavoro io non ho fatto famiglia niente sto solo a studiare questo dice perché non fa scrivere romanzi mi piacerebbe tanto però serve ai cittadini questa cosa che sarebbe come ha fatto tuo zio e ho capito ma mio zio ha visto in un'altra epoca Luigi Pirandello non è che non c'erano questi problemi adesso ci sono problemi dove gli italiani vogliono una risposta io vado al bar e mi dicono allora ci vedo il condono io devo condonare questo condonare quell'altro questo non è un condono l'ho detto dall'inizio speravo degli emendamenti ma è uscita troppo presto e quindi è uscita ancora male la norma non è un condono e noi per fare il risparmio energetico abbiamo bisogno di un condono signori perché senza un condono totale non me ne frega niente dell'abuso non l'abuso oppure dobbiamo buttare tutto giù e rifacciamo le case green io sono d'accordissimo buttiamo tutte le case giù perché quello che hanno detto quello dei condomini ma anche il presidente di confedilizia io lo rilevo tutti i giorni signori i condomini molte volte quello c'è il quadretto chiarissimo quello c'è i soldi quell'altro non c'è una lira perché ha perso il lavoro perché non si sa rigenerare perché non sa fare niente da sole non lo so però molte persone che stanno in un condominio non hanno abbastanza soldi per procedere col 110% ci sono stati stati questi soldi a scatafascio che va anche bene abbiamo spesi sono indebitati i nostri nipoti per fortuna non fatti figli per almeno 70-80 mila euro così dicono le statistiche fino alla terza generazione però le case quelle che sono riuscite a fare questo lavoro hanno fruito di questa cosa è ovvio che poi quando vende il proprietario dice ah ma mi tastano di più mi sembrerebbe il minimo che ti tastano di più ti hanno fatto casa gratis è ovvio che ti devono questa mi sembra l'unica cosa veramente giusta e corretta dell'agenzia delle entrate mi sembra sacrosanta dall'altra parte però noi siamo signori utilizzando dei materiali che non sono neanche stati testati il testato materiale si fa in anni di lavoro non si fa così che ci appiccico i pannelli come si chiamano non me lo ricordo in questo momento che però prendono fuoco andando a fare qualcosa perché questo succede quindi ci sono questi problemi e creano la muffa quindi tutto questo quello che prevedo io io vedo per le macchine hanno richiamato la Tesla io l'ho fatta per Almeria sto facendo per loro questa ricerca io a Palermo nella mia isola mi manda Almeria incredibile no l'Italia mi manda Almeria e Almeria ho detto che quelli che hanno la Tesla sono i salvatori del mondo perché loro si ritengono così non andiamo a vedere questa cosa non è fattibile non è risparmio energetico quello va bene io ieri ho comprato una 112 vecchia questo è quello che vi dico secondo me la norma va riscritta soprattutto abbiamo bisogno di una norma chiara che riguarda tutte le regioni non è che si manda sempre alle regioni rimandiamo alle regioni rimandiamo alle regioni praticamente questa norma non ha detto niente e meno male perché neanche io la posso capire molto bene per il resto il risparmio energetico deve andare avanti se dobbiamo creare delle modifiche a questo risparmio energetico e degli step molto più lunghi privilegiando ascensori preesistenze e cose che mancano a questi condomini ok perché di condomini si parla credo del 50% il 60% di immobili sono condomini sono esonerati però i ricchi cioè chi ha la casa al mare nella norma questo dice sono esonerati quelli che hanno le bellezze architettoniche non si fa quindi l'unica cosa per aiutare i privati a non spendere i soldi è quello di dire non si può fare perché è zona vincolata o non vincolata comunque non si può fare quelli che negli immobili particolari chi ha la fortuna di avere i soldi e abitare in un palazzo Liberty Coppedè o da un'altra parte sicuramente ci avrà sicuramente tutte le agevolazioni per non farlo gli altri saranno costretti per una cosa che secondo me purtroppo non serve speriamo che ci daranno dei finanziamenti scusate questo diciamo questo discorso ma le cose da dire erano tante e purtroppo nell'idea poi spero di aver dato almeno l'idea di quello che sta succedendo fuori di qua l'hai data con chiarezza con chiarezza e adesso conclude questo seguitissimo convegno l'ingegner Cristian Angeli che conosciamo perché pubblica quotidianamente sul tema super bonus su Italia Oggi quindi in questi anni ci ha seguiti cioè noi abbiamo seguito lui perché è stato un pochino davvero un punto di riferimento con cui confrontarci e quindi abbiamo detto autore anche di numerosi libri sul tema io ho avuto la fortuna di collaborare con lui sul penultimo libro pubblicato insieme all'amica collega Virginia Raggi che è già sindaca di Roma il libro sta andando molto bene mi dicono quindi è stata una bella collaborazione ed è stato veramente un grande piacere lavorare insieme perché ci siamo trovati davvero a memoria ti lascio la parola per l'ultimo intervento grazie Cristian il tema è aspetti tecnici del contenzioso derivante dal super bonus e dei bonus edilizi ringrazio l'avvocato Petillo ringrazio tutti voi per essere qui presenti l'ordine degli avvocati che ci ospita e sarò breve perché il tempo è ormai finito diciamo che in generale quello dei bonus fiscali è un mondo che richiede competenze professionalità molto diversificate e sempre aggiornatissime questo perché è un mondo mutevole caratterizzato da una stratificazione di norme che si sono originate in tempi lontanissimi e delle quali bisogna tenere conto sia nella fase della progettazione degli interventi sia nella fase dell'esecuzione dei lavori ma anche purtroppo nella fase mi dicono che non si sente mi sentite ma anche nella fase della gestione del contenzioso che può originarsi i bonus edilizi infatti non dimentichiamolo non sono nati con il super bonus e con il decreto rilancio che ha avuto semmai l'effetto di potenziarli oltremodo quindi di renderli famosi e di renderli conosciuti a tutti si sono originati addirittura negli anni 80 pensate per il sisma bonus l'agenzia delle entrate ha chiarito recentemente nel 2023 con la circolare numero 17 che bisogna tener conto anche di tutti quelli che sono stati i chiarimenti di prassi forniti per il vecchio bonus ristrutturazioni quello che è nato nel 1986 quindi ho scritto qua sono anziani perché pensate ricordare tenere a mente 30 anni di chiarimenti di prassi per la realtà dei cantieri che è sempre diversificata e mutevole è molto complesso stessa cosa vale anche per l'ecobonus che è nato nel 2006 ma venendo al mio intervento qual è stato il problema tecnico dei bonus edilizi e del super bonus sicuramente il caos normativo sappiamo tutti che il settore è stato interessato da qualcosa come 36 fonti normative tra leggi decreti leggi e leggi di conversione tra l'altro il 37esimo provvedimento è alle porte perché i primi di settembre è stato reso noto un decreto attuativo che è quello che prevede un contributo a fondo perduto per le categorie non abbienti che hanno avuto difficoltà nel passaggio dal 110 al 70% un dettaglio sicuramente perché c'è un fondo a disposizione molto limitato che però anche di questo bisogna tener conto quando si fa il quadro normativo del problema e per capire quali sono state tutte queste modifiche per renderci conto della loro incisività può essere opportuno ed utile anche forse divertente sfogliare le pagine dei giornali questo è il quotidiano Italia Oggi che cortesemente ha ricordato Guerrino Petillo nell'introduzione sul quale io scrivo che nel mese di novembre parto da novembre per non partire da quattro anni fa parlava di un rischio contenzioso legato alla deadline del 31 dicembre 2023 una data cruciale quella che segnava la fine del 110% per la maggior parte degli interventi e che appunto in quel momento veniva denunciato il rischio di sbagliare per effetto di questa fretta nel mese di aprile le cose sono cambiate o meglio non è cambiato il rischio contenzioso di dicembre ma se ne è introdotto un altro quello legato al blocco della cessione dei crediti e della quale parleremo più dettagliatamente tra un attimo nel mese di agosto pochi giorni fa si parlava di un altro rischio ancora quello legato alle vendite post 110% quindi capite si tratta di un rischio poliedrico potremmo definirlo così mutevole perché appunto si origina con l'avvicendarsi di queste modifiche normative che si incastrano le une con le altre quindi si stratificano e quindi chi oggi deve gestire un certo rischio un certo contenzioso deve tener conto come dicevo all'inizio di tutta una serie di provvedimenti che si sono succeduti nel tempo ma veniamo al blocco delle cessioni perché è appunto la pietra miliare di questo rischio contenzioso del quale io parlo quotidianamente nelle mie pubblicazioni che cosa è successo con il decreto blocca cessioni 2 che potremmo definire essere il principale farmaco utilizzato da quella che è stata definita la cura Giorgetti per neutralizzare gli effetti del super bonus o quantomeno gli effetti del super bonus mitigarli quantomeno sulle finanze pubbliche sappiamo che è stato un decreto fulmineo che è stato pubblicato il 29 marzo 2024 e che ha avuto effetti dal giorno dopo dal 30 marzo 2024 quindi non ha dato tempo di assestamento e quindi da quel giorno si è propagato come un'onda in tutti i cantieri che erano in corso un'onda devastante in alcuni casi perché ha costretto al cambiamento repentino drastico di tutti quelli che erano i piani fino a quel momento diciamo messi in campo dai contribuenti che speravano ovviamente di poter fare i lavori che magari li avevano avviati con la speranza di poter cedere i crediti fiscali alle imprese esecutrici o alle banche ebbene dal 30 marzo non è stato più così perché questo decreto a proposito di stratificazione si va ad incastrare con il precedente decreto blocca cessioni 1 se vogliamo speriamo non ci sia il numero 3 quindi decreti che si incastrano e in questo caso ciò che era previsto prima ovvero la presentazione di una CILAS entro il 17 febbraio 2023 non è più sufficiente bisogna ora avere eseguito dei pagamenti entro la data del 30 marzo quindi chi non lo ha fatto deve rivedere i propri piani ed è qui che possono nascere i contenziosi perché non sempre è facile trovare o aver trovato liquidità sufficiente non sempre è facile avere capienza fiscale sufficiente per coprire i bonus soprattutto con un decreto che prevede anche il cambio del numero di annualità per poterli ammortizzare ma parlando appunto di problematiche tecniche cerchiamo di capire come funziona in concreto questa trappola non ho problemi a definirla trappola perché proprio di questo si è trattato facciamo alcuni esempi pratici esempi che tra l'altro mi sono capitati nella mia attività professionale quindi persone che mi scrivono che mi chiedono consigli e che si trovano in situazioni di difficoltà qui abbiamo un condominio come vedete fresco di lavori quindi un lavoro ben fatto certo li sto romanzando un po' questi questi casi pratici perché deve essere così però sono realmente delle realtà accadute a contribuenti in questo caso un condominio che nel 2022 ha presentato una CILAS ha firmato un contratto con un general contractor e quindi fino a buona parte del 2024 appunto fino al 30 marzo era in regola per poter eseguire i lavori con lo sconto in fattura o la cessione del credito che cosa succede a questo condominio che i lavori li finisce poco prima del mese di marzo e come avveniva spesso in condizioni normali in edilizia appunto i conti vengono fatti alla fine magari perché no per buoni rapporti per reciproca fiducia tra il condominio e l'impresa grazie anche all'attività di intermediazione dei tecnici sta di fatto che questo condominio alla data del 30 marzo 2024 i conti non li aveva fatti e quindi arriva il decreto rilancio e si trova in trappola in trappola perché dall'oggi al domani non ha più la possibilità di cedere il credito al general contractor che aveva eseguito i lavori capite quanto insidiosa è la trappola che può vedere coinvolti facilmente anche i professionisti pensate in questo caso questo direttore dei lavori che magari viene chiamato in giudizio per non aver fatto la contabilità dei lavori in tempo ma purtroppo possono esserci anche casi più insidiosi del precedente pensate a questo condominio che aveva anche lui fatto una CILAS anche lui aveva un general contractor a disposizione e quindi era tutto ok per eseguire il lavoro con sconto in fattura ma per motivi che non vi sto a raccontare perché li conosciamo tutti ha avuto dei rallentamenti quindi li ha eseguiti e ha avviati in tempo ma a marzo del 2024 quando entra in vigore il decreto blocca cessioni 2 il condominio che magari ne sente parlare e dice facciamo il punto ho sentito dire che entro il 30 marzo bisogna fare un pagamento se no decade tutto ebbene viene fatto il conto emerge che i lavori non sono arrivati al 30% che è quella soglia minima prevista dal comma 1 bis dell'articolo 121 e quindi non riesce appunto a mandare avanti la pratica e quindi appunto anche qui dall'oggi al domani una trappola che blocca i lavori in corso almeno prima nasceva un contenzioso ma i lavori erano finiti qui abbiamo i ponteggi ancora montati cerco di essere veloce e cerco di far capire quanto mutevole e che livello di attenzione deve servire in questa specifica materia lo faccio con un esempio legato alla giurisprudenza che sta maturando vediamolo con riferimento all'eco bonus tutti i tecnici che ci seguono spero che ci stanno seguendo in questo momento sanno che per poter accedere alle detrazioni fiscali in particolare all'eco bonus occorre aver eseguito la comunicazione dei dati all'Enea sanno che bisogna farlo entro 90 giorni dalla fine dei lavori e lo sanno anzi lo sappiamo il collega lo può confermare perché è scritto dappertutto è scritto nel sito dell'Enea è scritto nelle modulistiche ci sono delle sentenze che lo prevedono una molto importante della Cassazione del 2022 e c'è anche una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate la numero 46 del 2019 ebbene questa nostra convinzione non è più realistica perché ci sono state due sentenze del 2024 della Corte di Cassazione una tra l'altro del mese di luglio quindi recentissima per chi la vuole andare a rivedere è la numero 19.309 che dice che questo inadempimento non è più causa di decadenza deve essere sì sanzionato dice la Corte di Cassazione ma non è causa di decadenza perché? perché è stata fatta una rilettura di quella che è la legge istitutiva dell'eco bonus la legge 296 del 2006 che in effetti andando a vedere usa delle parole non perentorie dice i tecnici sono tenuti a trasmettere all'Enea i dati relativi ai lavori ecco questo è stato sufficiente forse anche giusto per dire che non si trattava di una causa di decadenza quindi si capisce che livello di attenzione e di aggiornamento ci deve essere in questa materia anche per non avventurarsi in vicoli ciechi avevo preparato dei casi ma siamo al di là delle tempistiche minime ne avevo preparati tre magari ne vediamo ne vediamo solo uno o due casi appunto anche qui realistici di un'impresa in questo caso che si è rivolta per avere dei consigli e quindi che cosa era successo un'impresa che si è autodefinita inadempiente perché in effetti così era aveva sottoscritto un contratto d'appalto per l'esecuzione di opere agevolabili con super bonus però era stata costretta a bloccare i lavori prima della scadenza per mancanza di liquidità aveva ricevuto un acconto dal committente dei lavori che a un certo punto prima del 31 dicembre 2023 gli scrive una raccomandata perché i lavori in effetti erano fermi e dice cara signora impresa tu non solo mi devi restituire l'acconto che nella fattispecie era pari a 20.000 euro ma me ne devi 100.000 perché per colpa del tuo inadempimento contrattuale mi hai fatto perdere una chance quella appunto di poter accedere al super bonus l'impresa gli risponde picche gli dice no io non ti devo nulla o quantomeno tu me lo devi dimostrare che io ti devo 100.000 euro sui 20.000 magari si può ragionare ebbene all'esito di un giudizio questa impresa ha avuto ragione perché nel 2023 il tribunale di Padova si è pronunciato con due sentenze anzi tre tutte e tre del 2023 non so perché tutte presso il tribunale di Padova che comunque ha detto che in un caso di questo tipo è vero che il danno deve essere dimostrato perché non è in questi termini per come era stato sollevato dal committente dei lavori dimostrato il nesso di causalità fra l'inadempimento dell'appaltatore e la definitiva impossibilità di accedere al super bonus cioè in altre parole il ricorrente non aveva dimostrato che non avrebbe potuto trovare un'altra impresa disponibile a subentrare alla prima e quindi a finire i lavori e quindi ad accedere al beneficio fiscale il tribunale di Padova dice una cosa in più per avere un rimborso serve e lo dice esplicitamente sentenza numero 2266 del 2023 serve una perizia tecnica una perizia tecnica che vada a dimostrare in modo oggettivo e a quantificare il danno subito dal committente un secondo caso condominio e cappotto termico ho riportato dei casi molto comuni che però sono utili per riflettere sul ancora una volta lo ripeto il livello di attenzione che serve e di conoscenza per addentrarsi in un contenzioso in questo caso a scrivere è un amministratore di condominio che dice ho preparato tutto ciò che serviva per iniziare un appalto di lavori per eseguire il cappotto termico ma pur avendo fatto tutto delibera appalto progetto pochi giorni prima una signora mi scrive nel mio appartamento non si entra i lavori nel mio balcone nella fattispecie non dovranno essere fatti è un caso ricorrente perché è stato già trattato più volte da vari tribunali però appunto è ricorrente e quindi anche a questo amministratore di condominio era capitato come fare la domanda non ha una risposta preconfezionata ogni caso e questa è una regola generale deve essere visto volta per volta per poterne cogliere le peculiarità soprattutto di natura tecnica diciamo che in generale possono avere ragione entrambi sia la signora che si lamenta sia il condominio e dico questo perché appunto ci sono delle sentenze che danno ragione all'uno cioè dicono il committente ha ragione cioè il proprietario della singola unità immobiliare non può vedere compromesso o comunque ridotto il proprio diritto a calpestare la parte di proprietà esclusiva altre sentenze che invece dicono che ha ragione l'assemblea nel fare i lavori diciamo che a dirimere la questione è stata la più recente sentenza 2022 del tribunale di Milano che tagliando un po' la testa al toro argomenta in modo molto dettagliato questo tipo di problematica e dice che deve prevalere l'interesse della collettività dove la collettività deve essere intesa sia come collettività condominiale che quindi ha diritto a ottenere un risparmio energetico all'interno dell'edificio ma anche la collettività intesa in senso sociologico questa è una parola che uso io cioè appunto l'interesse collettivo di risparmiare energia quindi nel caso specifico è stato eseguito il cappotto su tutta la superficie disperdente perché dal punto di vista tecnico deve essere così per forza il cappotto non può essere eseguito a macchia di leopardo l'insegnamento che si ricava da un caso di questo tipo è che bisogna sempre fare una corretta informazione in ambito condominiale per evitare problematiche dell'ultimo minuto concludo salto il terzo caso dicendo come è stato ricordato da alcuni colleghi che le problematiche in questo ambito di edilizia incentivata prendo prestito il termine dal presidente di confedilizia possono avere sempre risvolti di natura tecnica fiscale e legale e quindi serve sempre un approccio multidisciplinare e quindi è importantissimo se non indispensabile lavorare in team vedendo da una parte i tecnici ingegneri architetti e geometri dall'altra i commercialisti che come ricordava il presidente di Unai non devono arrivare alla fine per mettere il visto di conformità ma devono guidare tutto il processo sotto il profilo fiscale e infine ovviamente anche gli avvocati per gestire gli eventuali contenziosi vi ringrazio grazie dell'eccellente intervento grazie di ospitarci nella meravigliosa cornice di Fiera Rimini per i convegni e che tu organizzi molto molto belli ed interessanti il convegno si conclude qui ringrazio tutti i colleghi collegati e di presenti buona serata grazie